Beh, in Italia abbiamo molti buoni formaggi, cade martori però, eh? Taleggio? Ne tengo di tre o quattro qualità, cade martori però! Taleggio? Io adoro il taleggio, cade martori però! Da cent'anni chi ama il taleggio apprezza la differenza e da cent'anni la differenza a cade martori sta nella lavorazione artigianale e nella stagionatura in grotte naturali. Da cent'anni vero cade martori, il taleggio che sa di montagna.